Sono Aldo Scarpa, il direttore del centro di ricerca applicata ARKNET, che significa Alleati per la ricerca sul cancro. Noi studiamo in particolare i tumori per personalizzare la terapia e scoprire marcatori che ci permettano di individuare quali pazienti sono più a rischio di complicanze per poter essere trattati in maniera differenziata. L'investimento importante che c'è stato in questo centro è l'investimento in tecnologie e informazione di persone, persone giovani che possano continuare assolutamente il lavoro iniziato negli ultimi dieci anni con questa iniziativa. Per cui è fondamentale e importante riuscire a trovare il supporto per strumentazioni, innovazione tecnologica e la formazione di giovani e il di questi giovani perché possano continuare ciò che è stato iniziato da chi è partito prima per queste iniziative. Grazie per la visione! Grazie a tutti.